Questa è la tua stanza, Hunter. Ciao, tesoro. Chi è? È la zia Katie. Strano, pensavo l'avessimo persa. Qualcuno è entrato e ha distrutto tutto. Per Christie è un fantasma. So che siete spaventate, vi proteggerò io. Che ne pensi della storia del fantasma? È fantastica. Fa venire i brividi, mi è successo ieri notte. Ecco la porta che si chiude da sola. Oh mio Dio! Hunter! Papà! Ellie! Lasciami in pace! Paranormal Activity 2. Dal 22 ottobre al cinema.